Partono da un'idea condivisa, la necessità di rivoluzionare in chiave green la mobilità cittadina, ma arrivano a conclusioni che restano solo contigue. Sono l'ex assessore al Comune di Pescara Stefano Civitarese e l'attuale assessore Luigi Albore Mascia. Il progetto in questione è quello di Via Marconi, nato nella giunta Alessandrini con l'allora assessore Civitarese e ora ripreso dalla giunta Masci e rivisitato dall'assessore Mascia. Oggetto del contendere sono le corsie, oggi diventate quattro, due per le auto e due per i bus, ma anche l'assenza della pista ciclabile. Il progetto nasce con l'amministrazione Alessandrini, intercettano un finanziamento europeo di 1.300.000 euro che transita tramite la regione con un'idea di sviluppo urbano sostenibile, condivisibile perché rende protagonista il mezzo pubblico, rende protagonista la filo via. Quei soldi l'amministrazione Alessandrini li aveva dal 2018. Se manca la pista ciclabile è perché comunque bisogna entrare in un altro mood, in un'altra cultura, che è quella della intermodalità. Io sono un fruitore della bicicletta, sono un sostenitore della bicicletta come sistema di mobilità alternativa ed è il futuro a fianco ad altre misure come quella della filo via. Salgo sulla filo via, salgo su un mezzo che sia confortevole, anche con la bicicletta, come accade se si viaggia e ci si confronta con altre città europee, con le comunità più ampie. Ma la filo via si farà? Secondo me siamo all'atto finale, con passaggi giudiziari, ma la filo via si farà ed è il futuro per questa città per quanto riguarda il trasporto e per quanto riguarda la qualità dell'aria, la qualità della vita delle future generazioni. Riconosco all'assessore e anche al sindaco il coraggio di aver portato avanti un'iniziativa che onestamente anche nella precedente amministrazione non era stata presa così in toto. Di questo do atto. Il problema secondo me è però proprio quello di far comprendere, reintrodurre questa che è una rivoluzione che dopo il Covid è cambiato il mondo, dare la priorità, come dice il piano urbano di mobilità sostenibile, a mezzi pubblici, biciclette, pedoni e se poi avanza lo spazio anche alle automobili. Non partire dal presupposto che dobbiamo intanto sistemare le automobili e poi vediamo cosa si può fare. Ormai le strade cosiddette canale, cioè quelle che attraversano, devono essere tutte fuori. Non si può pensare che dentro una città, ma questo dovunque è così ormai, la città debba essere attraversata per andare da un punto all'alto. Se uno deve andare da un punto ad un altro della città l'attraversa fuori. Questa è una grande occasione, ci sono i soldi, condizionerà il futuro e quindi se non si ha più coraggio, siccome alcuni ce l'hanno questo coraggio in giro per l'Italia e per il mondo, mi dispiace che noi non ce l'abbiamo mai. Non è una questione di questa amministrazione della precedente, è una questione proprio credo della classe dirigente che dovrebbe fare un po' un salto di qualità.